Sono accusati di aver ripulito oltre un miliardo di euro provento di evasione fiscale, appropriazione indebita e truffe. Gilberto Ghiotti, Mario Fantini e Luca Simoni, rispettivamente presidente, amministratore delegato e direttore generale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Paola Stanzani, amministratore delegato della Delta Spa e Gianluca Ghini, direttore della sua controllata Cari Fin, sono stati arrestati questa notte nelle loro abitazioni di Rimini, Cesenatico e Bologna. Fantini e gli arresti domiciliari, gli altri tutti in carcere, 32 i complici indagati in stato di libertà, 16 le perquisizioni effettuate in banche, uffici e abitazioni di Roma e dell'Emilia Romagna. Il blitz di polizia e guardia di finanza di Forlì chiude la seconda fase dell'inchiesta Re Nero, l'indagine della procura forlivese sul riciclaggio di denaro sporco nelle banche di San Marino. Tutto ruota intorno al gruppo Delta, una holding a cui fanno capo 25 diverse società specializzate in servizi finanziari e commerciali. Secondo gli inquirenti, il gruppo è stato costituito dalla Cassa di Risparmio di San Marino e dalla società bolognese Estuari appositamente per aggirare i controlli e le leggi che impediscono alla banca di esercitare in territorio italiano. Attraverso le società controllate e dietro una cortina di passaggi e operazioni, tra il 2004 e il 2008 la banca sanmarinese avrebbe raccolto oltre un miliardo di euro provenienti da attività illecite sotto forma di assegni, poi versati su un conto acceso presso la filiale forlivese del Monte dei Paschi di Siena e convertiti in banconote da 500 euro, trasportate poi sul Titano con furgoni portavalori.